ciao sono kento e quest'anno dovevo essere sul palco del falcatraz festival non ci sarò come non ci sarà nessun altro ma mi fa piacere aderire alla campagna io resisto e condividere con voi qualche pensiero quest'anno come tutti gli anni è importante resistere ma quest'anno abbiamo un altro tipo di resistenza che stiamo imparando e non è soltanto quella contro il virus ma è contro una gestione della crisi che ancora una volta come sempre stato penalizza i più deboli gli ultimi gli umili le classi popolari questa retorica di assimilare la pandemia una guerra sicuramente non è qualcosa che ci piace non è qualcosa che ci convince fino in fondo e anche questi appelli all'unità vanno bene fino a quando non vogliono dire non pensate sto riflettendo molto in questo periodo sto scrivendo sto lavorando qualcosa di nuovo sto cercando di definire il disco insomma quando verrò finalmente sul sul vostro palco vi porterò sicuramente qualcosa di nuovo sto riflettendo sto cercando anche insomma di dare una mano fuori compatibilmente a tutte le disposizioni di legge e mi sto accorgendo che c'è anche tanta povertà nascosta che non si direbbe dalle case che non si direbbe dall'atteggiamento delle persone però molto spesso la povertà oltre a essere manifesta e anche nascosta molto molto vicino a noi cerchiamo di dare una mano ognuno come come c'è possibile cerchiamo di soprattutto mantenere la mente aperta non facciamoci conquistare da questa retorica cosa che sarebbe purtroppo facilmente impossibile in questo periodo cerchiamo di rileggere e di imparare da quello che che abbiamo vissuto e da quello che stiamo vivendo facciamoci ispirare dalla dalla resistenza io a mio nonno non lo vado proprio a dire che questo è come una guerra perché mi manderebbe a quel paese e avrebbe ragione non è guerra non è e non è reclusione stare a casa con con just it o con con amazon o con ebay e non non funziona così un pensiero tra l'altro a quelli che sono reclusi davvero un pensiero ai ragazzi che seguo al carcere minorile che chiaramente in questo periodo non ho nessun modo di sentire insomma gli spunti di riflessione sono tanti adesso li stiamo affrontando anche diciamo con l'emozione ovviamente del momento emozione per quanto per quanto ci riguarda per quello che riguarda i nostri familiari ma che avremo modo di leggere di capire meglio nei prossimi anni e poi capiremo quello che succede di fatto nessuno sa in questo momento per quanto per esempio riguarda me quando riprenderà la stagione dei concerti quando ci potremo veramente abbracciare sotto il palco quando chi fa questo lavoro potrà insomma ricominciare a fare il suo lavoro e anche questo è un qualcosa su cui su cui si deve riflettere ci sono dei festival che già hanno tirato una riga sul 2020 stanno facendo le line up del 2021 insomma io mi auguro di riuscire a fare qualche concerto per ovviamente per il mio tornaconto personale ma anche perché francamente non ce la faccio più a parlarvi di fronte a uno schermo infatti adesso vi saluto vi mando un abbraccio forte io sono Kento e io resisto scediamo il Falcatraz il prima possibile ciao grazie a tutti